1,2,3 Mi hanno scoperto come attaccare 0 Dov'è? Facci vedere Mori Mori Palo Ma arriva Totti Ho visto un'ombra Attacca Oh, non l'avevamo visto l'ultima volta Oh Sì, son suelto E' l'ombra E' l'ombra Ti piace salvo Eeeh Mi immagino un mito dei manichini E' l'ombra Ci abitava qua Papà Che faccia piccola che hai Per l'alto testo E' l'ombra E' l'ombra Sì, è l'ombra Sì C'era il bambino? Si E' emancipato Molto, molto emancipato Lo accetto Ma non lo posso aprire perché sono gay, ok Allora Tuoi aprire i personaggi vengono i flash di buon pietna Allora RISQUIZZA TRU Va bene, abbiamo fatto la scena del padre psicopatico In più, è stato molto utile Prendetele a comando La porta lì, immagino che sia chiusa Sì, è bloccata dall'acqua Maledetta acqua Maledetta Maledetta gravità Tu posso sparcellarti al suolo Un po' di Ricordarsi che Dal garage esce un altro Simpaticone che vuole cargiar Vero, vero Si carica Tempo In verità, a cuore inoltre era un brava plegico Che è caduto dalla carrozzina Vuole solo essere tirato su In verità te trovo Aiuto Ha un sorriso un po' strano Chi? Con gli affari là, dai Ah, ok Tu non salti fuori, no? Dopo, dopo Ah, prima devo aprire Questo lentissimo garage Un po' d'olio No, dove ho svitol Svitol Eccolo Che carino Vuole solo killlo 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 Vuole solo Questa volta questo tasto qua è giusto Fracca il butone Ah, ho preso l'emptive bottle Qua c'era il coso, si Come pugnalare la gente Sono bravo No Eh, ok Eeeh E te l'avevo anche detto? Maroni Bossi Vedi, compri il coltello Infila la parte puntuta Puntuta? Dentro una persona che odi Ok Allora Eeeh Tab mappa Ho visto Ho visto nell'ultimo video Che dobbiamo andare Cioè, aspetta No, come è scritto my house Per favore Vai su My house Mohoose Eh, la Eh, sì È cancellato Comunque Giusto per ricordarlo Questo è una strada Questo è un fiume E questo è una casa Questa è la mia casa Aspetta Potresti dimenticarti Sì, perché tu ti dice Andiamo sulla mappa Dove la mia casa Io non c'è l'Oscar Tu non vorrei farlo Rimediarò in media Dai Eeeh Ho dei gambidi Ricordi di te Per sempre Mori, mori, mori Mori, mori E ti cadi lì come scendatore Provendo che non usciranno più bestie strane Dei gambini Eeeh Beh, ho il mio voto Un party Allora Eh, sì Qua c'era La stazione di polizia Lì Mi devo girare a sinistra Destra Vai gli da la polizia Eh, sì Magari c'è qualcosa Un fucile Tipo Eeeh Eeeh Non è riuscito però Eeeh Al volo Chi è che non lo vuole Il mio voto È il scocchio che vi pulisce I tombini dalle creature Ophalala Via La Così Eeeh Segui la linea Questa qui Lì qualcuno ha sgommato Dove? Appunto Ma no, è la lombra Ma quanti sono? È la lombra di Morbo Oh, no 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 Ti sta, ti sto giocando Mi sta killando Posta Posta Aspetta un altro Posta Ah, di qua non ci posso andare Bene, abbiamo scoperto un burro Eeeh Vai dritto lì Dove stai mirando Nel piccolo Esatto Perfetto Oh Mi sembra stato aver visto un ruolo È già due ombre che vedi E non ci sono le verità Io non mi ce l'hai preoccupare A preoccuparmici Preoccuparmi i cimici Mmm Amici dal Grander Wrestling Non so Amici dal Grander Wrestling Bucciali fuori da ring No, com'è che faceva Eeeh Eeeh L'arena Il ring di me è anti-aspita Novo ring di me è anti-aspita Botta le cuore da me Ahah 166 166 116 116 166 Ah che bello Riparta demani Dice un onde però che Sì Non lo so a dove Ho fatto È a forma di un ruolo C'è scritto open Eppure c'è scritto open Sono degli infami Tu menti Il mentito Che porta a bugiarda Niente, prova tutti i vicoli finché non ce ne sono aperte Questo muro mi sembra aperto Mi sembrava una cosa Allora, di qua non ci possiamo andare Quindi Vai a fare un picchetto nel lago Ma no, era chiusa anche quella, me lo ricordo dall'ultima puntata Ah, forse dobbiamo andare lì Che non abbiamo provato neanche ad entrarci Ehi, tu ci stai, fichi fichi con me Ci stai per 10 euro Facciamo fichi fichi insieme Ho vinto Hai avuto difficoltà per me ad entrare in quella stanza Assalto Ehi, ci stai Questa luce qua è fantastica Per favore, hai visto la definizione Olè Ha Insomma mi inquieto Ha Bene Ehi, ci stai per il beleno Mmm, no Civil War Ma chi cazzo è di terrestre Cos'è inutile della storia Oppa Qua Oh Mmm, no voglio continuare con il corretorio La minchia La minchia Esplora E c'era qualcosa Anche qui Un termo Un termo è la chiave Oh, stavolta si aprono Oh Hello Ciao Ciao Ah, è la soffichetta Ah, è quella di prima Sì, è vero Chi dice se vuole, se gli piace a Nale No, io Perché Come perché? Io gli chiederei Io gli chiederei l'anniversario Sì, io gli ho risultato in città Quando è Io gli avevo chiesto perché What? Sì, è una strana Quella è abbastanza normale Dai Di un po' Schimpa Schimpo? Aspetta Guarda che si guarda un vitro E che movimenti per niente meccanici Non si sta per niente un robot Aspetta, aspetta Cosa c'è? Perché What? La luce Voglio la luce Ah, ok No, io gli chiederei cos'è Come sta L Quello di Di lot No, di Death note Esatto Io ma C6 Ma veramente Domanda di riserva L sta per? Non mi ricordo Allora, i prossimi punti Allora Che è successo? I punti citazionali L sta per Larry Lo sapevo Sta per luce Lo sapevo Ah, è vero, Light Vabbè, questa qua mi ha già rotto le balle Prego che non mi seguire qui E drinka Non puoi bere durante i caricamenti È troppo easy Cosa volevo dire? Una stronzata ma la sono inutica Ecco Vole detto Alphime Vole detto Alphime Ah, in Tenerife abbiamo visto un negozio di giocattoli C'era un Spider-Man di scala 1 No, no Era una figata Volevamo tornare a casa con quella Oh Salva Oh Dio Cristo Se ti è rispondito Se si era bloccato mi ammazzavo qui Adesso subito Yes In diretta In diretta Premium Che non è in diretta Metti i sottotitoli tanto che siamo in pausa Ah, è vero Così che abbiamo anche una massa di quello che dicono Ci sono i sottotitoli Sicuramente È invece È invece Che porting di merda Molto Ma torna dietro, saranno in game option Subtitles on Vibrazione Mettiamo vibrazione Dove che non ce l'hai? Cosa ti vibra? L'uccello? Non lo so Terremoto ogni volta che vence la vibrazione Cioè non è console Posso fare il boss Fallo E invece no Invece no Allora al massimo ti puoi palpare la maglietta Lascio questo Lui cosa hai trovato? Un health drink Anche io voglio andare in giro con i camionetti e le pozzoni per recuperarvi E io anche io ho la pistola però Potrei ridere Eeeh Ok Ehi Ehi Mi fermo Ok Lì ci sei arrivato Ho laggato Luce Luce C'è già la luce E lui vuole toglierla Fa più Spooky scary Qualcosa non doveva uscire HACK E sono 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 delle HACK I need a different way Ah ok Cos'è la steel pipe Niente una spranca Ta Ta No Mi piace provare C'è una motosega Probabile Open Ma è che viene a fare un mostro Non per un mostro Adesso andiamo a un lavoro Sono di quelli che non sai come vanno Dove ripiglia Ma Sì che c'è da poco No infatti Non è molto feng shui in effetti La storia di Sarei uscito anch'io Che è? Sì Ah La storia di Shepard Glenn è un'opportunità Non la vogliamo sapere Ok ok Sì io ho già finito il gioco Se volete mi dico cosa c'è C'è un gay hole Sì? Vuoi sapere cosa c'è scritto nel libro? Ehm Cazzo ne so Non mi ha finito il gioco Ehm Un'immagine schizzata Non è sempre guardare cosa c'è dietro la foto Cazzo non c'è niente C'è uno spessore E' capitato Sì c'è Due personcine E' cartone Ahahahah Oh spaccala E prendi la coce del bocino Sembra un simbolo brutto Papà mia sempre E' sta Appa Ok Ecco Io so l'inglese Sì sì ma si vede Ahah Per dire amen Non so fare anch'io eh Amen Toh Eeeh Stai uscendo Eh sì perché non c'è altro da fare E allora Hai Hai saltato 6.000 segreti 8.000 oggetti Tempo della guida Tadadam 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 Vai c'è fatto che io non c'ho la voglia D'unico Un guida time Dovresti mettere un guida counter Per vedere quante volte sei dovuto ricorrere alle guida Vabbè adesso adesso non solo l'oprire Come funziona sto bocchino Vabbè su Google ricerca Youporn, youporn is the way Beh C'è la soluzione Allora C'è la soluzione C'è la soluzione Allora Simone ci ha chiesto in gruppo Ma Non so che Che gioco platinare adesso Allora c'è sottrasciato libero le opzioni da inserire no? Super Tutti i messaggi Io c'ho scritto Platina youporn Sfigato Tutti i like no? Ha vinto la mara e si è ripinto a me Di ribadinarlo Ti ho visto Yes Ce n'è uno che è uscito di recente che è figo Non mi ricordo come si chiamato? Allora La storia della Shepard Glen È un opportunity time È un paese Della Shepard Glen Cos'è? Un'azienda C'è scritto Opportunity È un Enterprise Ti ricordi di una nave spaziale di Star Trek? Ok Sì Il 1950 lo so questo Ha sciogato tutto Cosa? Niente Hai trovato? Chi io? No chi io? Stai guardando te Dove siamo? Siamo al Al livello 1 Allo municipio di Shepard Glen Ah adesso lo metti che ho qua Un municipio Abbiamo saltato il magazzino di Perpici Il grande hotel Il primo boss E' la stazione di polizia Come il primo boss? Il piccio del Dottor Pinch Il secondo boss E poi c'è il municipio La vita Dai andiamo al primo ora Dai al cimitero Io presumo che tu hai saltato Dov'è il cimitero? Eh dove ci sono le lapidi dai Barco Di quando ci possiamo andare? Di quando ci possiamo andare? Rosi Cimiteri No vamo là Ah donna che grande Eh non muore un sacco di gente Ah ho capito Ma salienti il po' e ancora le Intanto sappiamo anche dove andare lì I was born Oh il camion del mio amico? No? Io mi giro una sigaretta Toh I was born in the U.S.A Come? Born in the U.S.A I was born Ma no qua c'è casa mia E allora vai più in fondo? Non vedi dalla stondina bianca? Vai più in fondo? Vado più in fondo Vado più in fondo E suonava male signori Vai più in fondo Jeff Sì sì esatto lì In fondo Guardati a sinistra Là Lì Lì devi Sai sul fottuto portico Riempi quel buco Riempi quel buco Ah il mio portico Oh Eh signori non sarà normale No non ho capito C'hai detto? Niente Abbiamo detto che dobbiamo andare sul tuo portico Ah ok No anche ha riempito quel buco qua Oh c'è 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 No ci rompo No non Guarda che c'è come un lato a parte Con una forcina Aspetta 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 Forse dal lago adesso Sono andato al municipio Forse Sì No Tombino Vero L'importante Come si dice? L'importante non è se sei un 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 Dai che lo sai Jack L'importante Non te la ricordi Aspetta Aspetta Bravo L'importante è quella Non in questa sede Non in questa sede Non in questa sede In separata sede L'importante non è se sei un uomo Un uomo O un crotolo L'importante è che se muori Me lo dici Me lo dici prima Me lo dici prima La No E' una grazella Si sveglia del mondo Ma Si vede che Ma che guida hai seguito? Quella di GameSherf Oh Beh E c'è l'entil 3 questo no? Oncoming Casa Shepard A te la fine della caccia Ineggete questa triscione Nei pressi del podio Ma che 3? 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 13 15 15 16 15 16 18 18 15 19 19 Sì Dai, insomma, vai Posso aprire Eh, mi sembrava un po' un... Perché il giocattolino Non lo vuole Sali sullo scivolo Non mi sembra rilevante definirlo Sai se invece ci finisci il gioco con me? Sai? Lui, ho scoperto... La backdoor per il finale segretto Hai scoperto... Non hai mai la weapon giusta, eh? Hai scoperto la vita Ehi, eh Perché fa sempre quella questa cosa? Sembra inquietante, no? Poi se dovessi arrivare qualcuno da dentro Sì, infatti Eh Magari sta arrivando qualcuno, noi non lo sentiamo No No, lo so, no Ah, dai, pur Intanto io ho la sigaretta fiatta E' la sigaretta fiatta? Eh, sì Eh Minca merda Sì Tagli addosso Si è nascosto il pitone No, no, no Si, ma anche tu Cioè, era... era abbastanza premedibile Dagli 15 minuti di svegli 5 minuti Sì Oppalala Grazie Qua è il camion, non c'è qualcuno Take the fucking camion Esamina Benza Eeeh Il looks like some... la... la... sinfo La svuotata Senti giàmente Ti hanno già vandalizzato Aspetta Tu hai... è certo I can use it Fin Fatto Era... era vuota una sega, Ivan Che cazzo dici? Ha visto Ivan è l'inglese Capito? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Io non ho letto Mi sto aperto, sarà vuoto Significa vuoto Ha, 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 ha Dio santo rovestemmio Ha, ha, ha Ha, ha Dov'è l'uscito? Non c'è E' certo che se sali su scale iIDE a caso Non ce la vi posso provare Mmmmmmm mi piace lo mio bello di questo gioco è figo si buona la birra ora si è figo di asco lo facciamo? devo andare ad attivare il generatore in casa vuoi che non sbuchi neanche il mostro? nello scandinato ti va di culo ci sono i buchi diretti? buco diretto io voglio i mostri questo video lo chiamerò doppi sensi perchè? non abbiamo detto neanche uno a proposito a quanti minuti siamo? 21 facciamo un break qua si vai nuovo episodio come se avessimo staccato si veramente sono 11 giorni che lo registriamo